Questi fiori sono dello stesso colore. Questi fiori sono di colori diversi. Questi pesci sono della stessa specie. Questi pesci sono di due specie diverse. I bambini stanno saltando nello stesso momento. I bambini non stanno saltando nello stesso momento. I bambini non stanno saltando nello stesso momento. Questi due indumenti sono fatti della stessa stoffa. Questi due indumenti sono fatti della stessa stoffa. Questi due indumenti sono fatti della stessa stoffa. Questi due indumenti sono fatti di stoffe diverse. Questi due indumenti sono fatti di stoffe diverse. Questi due indumenti sono fatti di stoffe diverse. Questi due indumenti sono fatti di stoffa. I pezzi di metallo sono della stessa forma. I pezzi di metallo sono della stessa forma. I pezzi di metallo sono di forme diverse. Questi animali sono di specie diverse. Questi animali sono di specie diverse. Questi animali sono della stessa specie. Queste persone sono della stessa altezza. Sono tutte due alte, un metro e settanta. Queste persone sono di altezze diverse. Una persona è più alta dell'altra. Questi veicoli sono dello stesso tipo. Questi veicoli sono dello stesso tipo. Questi veicoli sono di tipi diversi. Queste persone hanno gli occhi dello stesso colore. Queste persone hanno gli occhi dello stesso colore. Queste persone hanno gli occhi di colore diverso. Queste persone hanno gli occhi di colore diverso. Queste ruote sono della stessa misura. Queste ruote sono della stessa misura. Queste ruote sono di misure diverse. Queste ruote sono di misure diverse. Queste ruote sono di misure diverse.